La mia guerra, quando io sono nato, mio padre era in Germania a lavorare, quando sono tornato lui aveva sei anni, quindi quando lui è entrato a casa la prima sera, forse sono diventato chiafurario, perché io sono quasi nato nelle grotte di Chiafura, però mio padre mandava una letterina, alcuni soldini che guadagnavano, una a mia madre, una a sua nonna, a sua madre perché doveva ascoltare la sorella lui, per cui quando lui arrivò, mio padre, mia madre lo presentò, mi dice questo è il tuo padre, non so perché me lo diceva il mio padre, quando lui ha preso il posto che aveva vicino con mia madre nel letto, di cui ero innamoratissimo io c'era il suo padre e me ne andai a dormire nella grotta di Chiafura di mia nonna, dico da stasera io dormo qua, io sono un Chiafura, perché là c'è uno che dice che mio padre io non l'accetto, ne passarono anni, e sotto verso la pietra io ho ripreso il contatto con lei, dice tu domani allora viene con me a lavorare.